Ci siamo sì? Mercato fortissimamente mercato, nove giorni al termine delle trattative della sessione estiva, ricordiamo in programma venerdì primo settembre si chiude alle ore 20 allo Sheraton di Milano, naturalmente la nostra testata sarà presentissima in prima fila per darvi tutti gli aggiornamenti e tutti i botti di una giornata che è fin troppo facile prevedere pirotecnica e senz'altro con colpi che in questo momento nessuno può sospettare come ci insegna il mercato. Dunque giovedì 24 di agosto, prima annotazione, mi dite come faccio a sapere gli ultimi aggiornamenti, molto semplicemente basta iscrivervi al mio canale YouTube, avrete naturalmente attivando la campanella la notifica istantanea per andare in diretta a seguire gli ultimi aggiornamenti, a proposito di questo io tengo a ringraziare i miei vecchi e anche i nuovi iscritti, abbiamo raggiunto il traguardo di 400 iscritti su YouTube per la nostra testata un grandissimo risultato di cui andiamo molto fieri, un risultato la cui soddisfazione vogliamo dividere con tutti voi. Allora entriamo nel merito, la notizia del giorno, pare che siamo a un centimetro dalle firme, è quella di Massimo Coda pronto a passare alla Sampdoria, una situazione che insomma si paventava ormai da diverso tempo, all'inizio del mercato c'era stato un sondaggio da parte della società blucerchiata, poi almeno 5-6 formazioni di serie B avevano raccolto informazione sul bomber del Genoa, adesso sembra che siamo veramente in dirittura d'arrivo per questo trasferimento che devo dirlo, non lo nascondo, personalmente mi spiace parecchio perché secondo me Massimo Coda poteva essere ancora molto utile al grifone e comunque i dettagli della trattativa ormai in dirittura d'arrivo, la Sampdoria ha superato la concorrenza di Bari e Cremonese che fino all'ultimo ci hanno provato, si parla di un titolo definitivo e non di prestito con un milione al Genoa, questo significa che la Sampdoria va a farsi carico degli ulteriori due anni di contratto che il bomber campano aveva ancora con il Genoa. Cosa succede? Succede che il tanto auspicato e invocato effetto domino comincia a prendere corpo, stringendo insomma ci sono dei comuni denominatori per quanto riguarda il mercato del grifone, almeno qui al primo di settembre, ossia obiettivi stringendo un centrocampista diciamo centrale, uno o due esterni, dove per uno o due esterni intendo soprattutto i due braccetti di centrocampo, il destro e il sinistro, un attaccante centrale, un'alternativa a Reteghi oppure un gemello tra virgolette di Reteghi e poi un difensore centrale, salvo poi colpi a sorpresa che magari potrebbero arrivare all'ultimo secondo. Non so se vi ricordate quello che successe in una sessione di mercato di tanti anni fa con la cessione di Biava alla Lazio, nessuno lo sapeva anche perché è stata una trattativa che è decollata nelle ultime due ore di mercato, la Lazio propose un contratto irrinunciabile a Biava che così su due piedi passò dal Genoa alla Lazio in un baleno. Tutto questo può succedere ancora ma può succedere ovviamente quando si sente profumo di traguardo, per il resto da qui alla prossima settimana cosa aspettarsi? Aspettarsi questi effetti domino, il Genoa al 95% cederà coda alla Sabdoria, non a caso di rimbalzo, c'è stata un'accelerazione per portare poi a palo bomber del Venezia in rosso-blu anche perché non dobbiamo mai dimenticare al di là dei desiderata e dei sogni dei tifosi, sogni naturalmente legittimi e condivisibili. C'è una situazione di bilancio ereditata da questa società particolarmente pesante e dunque i 777 si trovano nelle condizioni di dover cedere prima giocatori e contratti, prima di andare a pescare qualche nome sul mercato e dunque se esce coda poi può entrare poi a palo e in quel caso lì il reparto offensivo dovrebbe essere completo a meno che non ci sia qualche altro caso biava magari per qualche esterno alla Qamè. Le condizioni di poi a palo si tratta di pagare alla Venezia una clausola recessoria che ci risulta essere attorno ai 3 milioni. A questo punto dunque per quanto riguarda le punte centrali il Genoa potrebbe considerarsi praticamente completo con Reteghi e poi a palo e con la cessione di coda. Sempre per quanto riguarda gli effetti domino a questo punto ma io vado a ripetere quella che è una mia considerazione personale non capisco quale sia il ruolo nell'attuale Genoa di Puskas e infatti cominciano a sentirsi fortissime le voci di una cessione dell'attaccante romeno che sembrava dato per confermato nella rosa del grifone e dunque sappiamo che il Bari è molto attivo per quanto riguarda la direzione Genoa interessamento per coda sfumato e allora pare che il Bari ripieghi sull'attaccante romeno e insomma la trattativa sembra poter decollare da considerare che comunque Puskas sembra abbia richieste anche in Turchia. Come vedete basta un tassello che va a posto per scatenare una sorta di effetto domino che sistema diverse pedine diciamo in più campionati e in più squadre. Altro tasto molto interessante dicevamo del centrocampista centrale anche in questo caso nel momento in cui sembra che del Napoli sia a un centimetro d'allerta di Berlino in Zweite Liga ecco che dall'altra parte sembra che ormai per Crespo sia cosa praticamente fatta alla Genoa la stampa turca che ci ha abituato in questi periodi ad andare in fuga giusto per usare un termine ciclistico ci dà per fatto l'affare stampa turca che insomma aveva sollevato qualche voce della prima ora prima segnalando il contatto tra il Fenerbace e il Genoa per Crespo poi insomma questa stampa turca che ha sempre e comunque cavalcato l'onda ora rimbalza da quella terra la notizia che dovrebbe essere ormai indirittura d'arrivo il passaggio di Crespo alla Genoa se così sarà dunque bravi i colleghi turchi dobbiamo comunque ammettere che nelle ultime giornate di mercato non ci sono state notizie contrarie o smentite o inserimenti di altre società dunque tutto lascia presupporre che Crespo nel giro di qualche giorno o di qualche ora possa diventare un centrocampista rosso blu per quanto riguarda altre voci senz'altro calde anzi no prima un'annotazione ancora su Crespo si stava discutendo sulla cifra pare che il Fenerbace richiedesse 8 milioni il Genoa pare ne offresse 4 pare che si chiuda a 4 però insomma con qualche voce di bonus quindi insomma come in quasi tutte le trattative si andrà a tagliare nel mezzo per quanto riguarda invece i famosi braccetti i famosi esterni di centrocampo l'ultimo nome accostato al Genoa per la verità molto molto timidamente arriva guarda caso ancora dalla Turchia spero di pronunciarlo bene perché il mio francese è sotto al basico sto parlando di Leo Dubois terzino del 1994 attualmente in forza al Galatasaray si parla di una cifra per il cartellino di 2 milioni ma il francese sembra piuttosto restio a ridursi loro stipendio perché in Turchia pagano bene pagano meglio che in Italia e nella maggior parte dei casi e dunque come detto è una pista che insomma non sembra scaldarsi particolarmente poi c'è la solita ridda di nomi che rimane d'attualità da Zanoli a Aps a Valeri tutto lascia presupporre che come succede per a coda appena un giocatore andrà in maniera definitiva in un'altra squadra ci sarà questo effetto domino anche perché per esperienza vi dico quando si sentono tanti troppi nomi attorno a un ruolo la cosa ovviamente puzza perché insomma significa che una vera e propria trattativa un vero e proprio corteggiamento proprio non c'è non a caso nelle ultime ore proprio nella mattinata di quest'oggi sono stati accostati alla Genoa altri due nomi così per magia la mia sensazione è per sparare un po' nel mucchio si parla di Atebor per quanto riguarda la fascia destra un giocatore senz'altro di ottimo livello che è esploso con l'Atalanta poi ha avuto la rottura del crociato è rientrato da poco in gruppo ma insomma sembra che sia la classica voce per alimentare interesse attorno al nome di questo giocatore idem per quanto riguarda Zortea giocatore attualmente dell'Atalanta che insomma viene accostato al Genoa a me sembrano tutti questi della sorte di detonatori per andare a sbloccare la famosa trattativa la madre di tutte le trattative per quanto riguarda il braccetto di destra ossia quella legata a Zanoli del Napoli che Garzia sembra non voler liberare e dunque per quanto riguarda gli esterni di centrocampo siamo veramente in alto mare nel senso che serve una mossa decisiva da parte del Grifone o magari di qualche società che ha delle trattative in comune per avere poi l'effetto domino di cui vi ho parlato per quanto concerne il caso Coda e poi un altro denominatore comune per il Grifone porta al difensore centrale in questo caso anzi mi sono dimenticato per quanto riguarda gli esterni Lirola non a caso è andato al Frosinone è tornato a essere un giocatore di Di Francesco i due si trovarono con gran profitto ai tempi del Sassuolo e dunque è un nome che sfuma ma insomma pare che il Genoa non fosse particolarmente interessato. Dicevo del centrale difensivo un centrale difensivo di esperienza si sono fatti alcuni nomi negli ultimi giorni ne rimane uno forte che è quello di German Pezzella centrale argentino attualmente agli spagnoli del Betis anche in questo caso vale il discorso fatto per Crespo il Genoa sembra nettamente avvantaggiato verso una concorrenza che praticamente non esiste e dunque insomma il giocatore darebbe senz'altro un colore che in questo momento nel reparto difensivo del Grifone senz'altro latita. Questo per quanto riguarda la radiografia dello scheletro del mercato del Grifone dunque un centrocampista e qui si va dritti sul nome di Crespo per quanto riguarda l'esterno o gli esterni di centrocampo anche in questo caso il ventaglio è troppo è troppo ampio per avere degli obiettivi certi da concretizzare nelle prossime ore per quanto riguarda l'attaccante coda alla Sampdoria dovrebbe portare poi a palo al Grifone anche perché pare che il tanto inseguito Colombo addirittura adesso non vada più al Cagliari e non vada più alla Monza ma rimanga in organico al Milan per fare il vice giro e poi come detto un difensore centrale che possa dare esperienza in questo caso rimane il candidato fortissimo che è Pezzella non si parla più di Carsdorp anche perché magari si è trattato soltanto di una richiesta di informazioni da parte dei 777 e in effetti sembrava un obiettivo piuttosto proibitivo per quanto riguarda il Genoa altro nome che comincia a saltar fuori in maniera costante nelle trattative dei procuratori è quello di Mattia Aramu chiuso dal Grifone non ci sono spazi per questo giocatore almeno a quanto ci risulta in questo momento anche in questo caso adesso a fianco alle richieste di informazioni della società delle società cadette comincia a bussare alla porta di questo giocatore anche qualche club di Serie A ci pare che ci siano stati dei sondaggi da parte del Cagliari e del Verone dunque verosimilmente da qui al primo settembre Aramu troverà la sua squadra per quanto riguarda Galdames giocatore fin dal primo momento ai margini del progetto tecnico del Grifone si parla di una rescissione di contratto in modo che poi il giocatore sia libero di cercarsi la sistemazione che meglio crede per quanto riguarda il mercato direi che ho sparato tutte le mie cartucce le ultime da Pegli testa bassa verso la Lazio ricordo domenica alle ore 20 e 45 stadio olimpico di Roma Lazio contro Genoa di fronte due squadre ancora a zero punti e dunque un po di sale in più sulla coda di questo match che sarà arbitrato da Marinelli le buone notizie per Gilardino sono i recuperati dopo il turno di squalifica Strotman e Sabelli un Gilardino che avrà a disposizione anche Malinowski vogliacco a quanto ci risulta non sarà ancora della partita ci risultano invece in forte ascesa le quotazioni di De Winter per almeno uno spezzone di partita pausa acqua essenziale il nodo di Gilardino è la difesa a 3 che poi è una difesa a 5 oppure la difesa a 4 il discorso è molto semplice nel senso che con la Fiorentina Gilardino ha cominciato a 3 per poi ripiegare a 4 nel corso della ripresa una difesa a 4 che ha dato più garanzie rispetto alla difesa a 3 e qualcuno ha detto bella scoperta anche perché nel secondo tempo la partita era belle finita e quindi insomma la Fiorentina non aveva più il sangue agli occhi quindi insomma da qui dalla difesa a 3 barra 5 o a 4 partiranno le idee di Gilardino per poi andare a disegnare il centrocampo e l'attacco grande curiosità poi per capire dove andrà posizionato nel centrocampo Malinoski collegato ora mi scrive Federico novetà sul mercato Malinoski gioca Malinoski dovrebbe giocare anche perché insomma ce n'è un bisogno direi totale nel centrocampo del Genoa Federico abbiamo appena ultimato la carrellata di nomi al termine del mio collegamento in diretta potrai andare a rivederti il filmato naturalmente su tutti i miei social a cominciare da Youtube e poi ancora per quanto riguarda la Lazio il mercato della società di Lotito Sepe sarà il secondo portiere arriva in prestito dalla Salernitana dunque Ioris non sarà il vice di Provedella anche perché non voleva assolutamente accettare questo ruolo a quanto ci risulta la Lazio fa trapelare che il suo mercato può già considerarsi esaurito e soddisfacente in realtà sappiamo che sono dichiarazioni di circostanza che quasi tutti i direttori sportivi stanno lanciando così in questi ultimi giorni di mercato sappiamo che sono attivissime le trattative per il centrocampo della Lazio o un ritorno su Samarzic dopo la pessima conclusione della trattativa udinese-Inter oppure si vererà su Godenzee per quanto riguarda Gilardino Gilardino al centro delle critiche di parte della tifoseria qualcuno di voi mi ha scritto dicendo che insomma Gilardino ha molto deluso nella sua prima uscita in Serie A da allenatore così come aggiungo io la totalità della squadra io non vi dico la mia opinione non vi dico la mia sensazione mi limito soprattutto ai fatti e da qui provo a dirvi i miei pensieri allora Gilardino è il dipendente di una proprietà americana che ovviamente interpreta lo sport non all'italiana e quindi insomma bisogna far capire che qui è cambiata totalmente la dirigenza e quindi non basterà un KO, due KO o tre KO per mettere in discussione un allenatore lo ricordiamo reduce da una cavalcata molto importante che ha riportato il grifone in Serie A dopo soltanto un anno di Serie B quindi questo vuol dire che la posizione di Gilardino alla guida della Genoa è strasolida anche se dovesse imbarcare con la Lazio e anche se dovesse imbarcare con il Torino queste non sono considerazioni di Carlo ma sono sensazioni che vengono emanate dalle condotte e dalle strategie dei 7-7-7 che insomma non hanno una concezione diciamo prettamente italiana sul lavoro degli allenatori ma insomma preferiscono valutare nel medio termine questo tradotto in soldoni significa che Gilardino non ha il diritto o il paracadute di perdere tutte e 38 le partite però la sua fiducia verrà data senz'altro almeno fino a metà ottobre e poi di fronte alla seconda sosta del campionato i 7-7-7 tireranno le somme e da lì poi verrà presa una decisione riguardo a Gilardino nel caso in cui puntini puntini allora Federico scrive ricordiamo che Gasperini la prima ne prese tre dal Milan ricordo benissimo Federico era la prima partita di Serie A del reinato Grifone era se non sbaglio il 26 agosto del 2007 Genoa 0 Milan 3 con in campo un certo Paolo Maldini da lì alla velocità della luce Gasperini capì al volo la Serie A e insomma Gasperini e il suo Genoa veramente ci hanno fatto divertire negli anni a seguire ancora Federico che dice secondo me è un tecnico intelligente non trovi senz'altro condivido confermo e nel senso che è un è un tecnico che ha dimostrato di avere grandi doti lo ha fatto in Serie B adesso cambia senz'altro il mondo perché la Serie A è l'università del calcio certo è che insomma Gilardino quantomeno merita la fiducia da parte di tutta la piazza rosso-blu perché insomma sappiamo che la Serie A è difficile e bisogna rimanere compatti in tutte le componenti sto guardando se ci sono altri messaggi se me ne sono perso qualcuno chiedo scusa e comunque eventualmente riscrivetemi ciao parole sentite la penso come te su Gilardino grazie naturalmente io spero di avere ragione non tanto per i miei pensieri quanto perché reputo che Gilardino sia un ottimo tecnico a cui va concesso quantomeno un minimo di tempo e per minimo di tempo intendo almeno fino a metà ottobre e poi come tutte le persone in tutte le professioni del mondo verrà verrà giudicato per quanto riguarda la coda della nostra trasmissione ormai siamo veramente in chiusura ricordo che la nostra testata anzi annuncio perché è la prima volta che lo diciamo la nostra testata sarà presente domenica allo stadio olimpico di Roma dunque ci saranno diverse tappe di avvicinamento nella giornata di domenica a cominciare dalla primo pomeriggio a proseguire poi con il tardo pomeriggio e naturalmente anche per quanto riguarda la fase di commento di questo Lazio Genoa che si preannuncia davvero interessante ultima cosa iscrivetevi al canale se vi piace questo canale se vi è piaciuto questo video regalateci un like e senz'altro lo aiuterete a crescere grazie a tutti noi ci sentiamo naturalmente domani con nuovi aggiornamenti con sempre più il focus concentrato su Lazio Genoa senza però dimenticare questo mercato che da un momento all'altro può sparare qualche fuoco d'artificio grazie e adesso andiamo a vedere Rapide Vienna Fiorentina per la Conference League vi saluto ciao